Alimento come me raga, mi porto un alimentare giapponese aperto, che dico l'altro sopendo in 4. E' un tipo di alimentari utile per persone come me che arrivano tardi al lavoro e hanno fame, tanta fame. Eccoci qua, è sì, va, diritti alimentari. In Australia io ho vissuto a Fremantle, in Western Australia non ci sono 7-11, almeno fino al 2013. Due o tre anni fa hanno aperto, prima c'era di vieto per una legge di aprire qualsiasi attività commerciale, che è 24 ore su 24. Era stato concesso solo in conseguenza da villi, burocrazia di quest'altro italiano, che ha aperto, di seconda generazione, ha aperto un alimentare 24 ore su 24, in terreno governativo australiano. E il governo ha provato a farlo chiudere, però l'ultimo non ha fatto, ha combattuto pure a livello proprio interi giornali, ha messo in mezzo pur di stare aperto 24 ore su 24. In Australia è andato diverso, c'è la criminalità di tutti rispetto al Giappone, perciò lui doveva pagare due della sicurezza fissi dentro la struttura e tutte le telecamere, perché il rischio di beccarsi un furto era altissimo. Qua in Giappone non c'è stato problema, perché allora, questi alimentari ci lavorano due persone, tutta la notte, si occupano di sistemare tutto, di rimettere tutto il mondo in ordine, ma generalmente non ci sono tanti bendo box, ci sono le rimanenze di quelli che erano preparati in serata. Abbiamo tolto e vengo qua a comprare la carne, l'uovo, ho compro qualcosa di veloce da preparare a casa, verdure, però vedete anche i banchi sono più o meno vuoti, non ci è rimasto molto. Questo è un alimentare molto piccolo rispetto a altri, tipo quello che ha fatto Davide il video, ma lo ha fatto Davide il video è molto più grande di due volte questo. Ed il sushi non esiste proprio, l'hanno già fatto fuori. C'è un po' di sashimi, un po' da roba, qualcosa, eccolo qua, questo è quello che è rimasto. La spaghetta vongolata che fa tristezza, come queste di funci, questa è di funci, ma ci sta a volte quella delle vongole che veramente fa un po' di tristezza. Un po' triste, però questo è, molti dicono, è bello perché voglio riprendere un supermercato un piano al giorno perché rende l'idea, eh, beh io invece ve lo mostro di sera, che rende ancora più l'idea, perché questa è la realtà. Diez, persone come me che hanno fitto di lavorare tardi, e ma in mano vengono l'uno, 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 cioè questo c'è un e ce ne sta un altro, a due chilometri da qua, questa è un altro aperto, due volte grande, questo qua ha aperto pure quello che ho detto, che ho 24. Sono una persona molto semplice, perciò ho preso una zucchina, qua che a me costa 157 yen, cioè più di un euro, una, e le uova ce l'ho, però una, non me le è traga, una frittata, una frittata con le zucchine, perché, eh, così è, perché l'uno, di arrivare a casa, andranno più di mezzanotte e mezza, quasi l'uno, e non mi metto a cucinare. Perciò, in realtà, c'è un sacco di persone qua in Giapponesi, che hanno impegni di lavoro, e... Io metto quei dolci, 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 questi costano veramente niente, questi sono quelli più gettonati da mattina, per i studenti, perché costa poco e riempi il stomaco, questo proprio riempi il stomaco, questi sono dei pieni con monti, con formaggio, tonno, alcuni con l'uovo, alcuni con i faggiori rossi. Ma, questa è la normalità della vita quotidiana in Giappone. Sì, ti dà benvenuto quando entri, ti dà saluto quando esci. Però, nella realtà comunque della vita giapponese, questo è, cioè, ma è meno figo che l'ho mostrato su YouTube, però poi è una realtà, e ci sono tanti giapponesi che vivono in questo modo, che hanno lavori, e ho lasciato alla fabbrica questa gente che fa il turno fino alle 5 di domani mattina. Mentre io staccavo, erano in pausa, in pausa, ma il ceno o meno che sia, avevano tipo un'ora di pausa, e riattaccavano a mezzanotte, alcuni, alcuni poi staccavano la mezzanotte e attaccavano poi a luna, rimanendo comunque in fabbrica. Cioè, in realtà, questo rende il Giappone un paese simile all'Italia. Quanta gente va a fare la spesa, le supermercati di notte, in Italia? Quanti fanno addisti di camion e si stanno fermando in autogrill per mangiarsi un panino, per fare una pausa, per farsi qualcosa di sonno? In realtà, perciò, non è che qua in Giappone non lo fanno, anzi, mi piace me condividere, cioè non smettono mai di condividere, in realtà quella nuda è cruda, quella fatta di tutti i giorni, raga. E' bello, per me è bello condividere con voi, farendo vi partecipare comunque di questa realtà e fare toccare con mano un po' più da vicino il Giappone. E anche quel lato poi che uno non mostra, ma per me sbaglia, è bello anche quello. Raga, io ho bisogno anche di Coca-Cola, che brutta persona. Zuccheri, zuccheri, zuccheri. Adesso vado a casa, provarò a mangiare. Sto un po' con la mia donna. E ci vedo domani, raga. Un altro video del Giappone. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video, se vi piace un video così. Dite la vostra opinione, è molto importante. È molto importante, così io posso capire qual tipo di video vi piace, quale non vi piace, come devo modificare alcuni video. e non vi preoccupate, il format non cambierà, non è un format unico del canale. Non succederà mai che vi abbandono e metto video, seduto da andiena telecamera, non lo farò mai. Non è lo stile di questo canale, non è non nato così questo canale. Il canale è nato così, parlandovi in mezzo alla strada. E così sarà. Sempre improntato il canale. Grazie per il vostro tempo. Grazie davvero.